La campagna era nel suo massimo splendore. Esuberavano le foglie dovunque, le viti erano simili a mucche dalle grosse mammelle, coi loro grappoli che giorno per giorno si facevano sempre più pregni di succo. I peschi curvavano i loro rami carichi di frutta già rosea, il grano turco ergeva i suoi pennacchi verso il cielo caldo di sole e le pannocchie già premevano con tutti i loro grani il verde cartoccio. I foraggi che avevano beneficiato delle recenti piogge trovavano nella caldura il vantaggio per crescere in vigore e sviluppo. Nell'orto pomidori e fagioli largheggiavano in promesse. Passarono alcuni giorni molto caldi e molto asciutti, senza una nube in cielo, che fecero ricercare l'ombra, il mangiare leggero e la fresca acqua dei fiumi per il nuoto pomeridiano. Poi una sera si vide dalla parte dei monti alte nubi formarsi e lentamente avanzare. I galli cantarono in ore che non erano quelle dell'alba e le bestie nelle stalle stralunavano gli occhi inquiete tra il fastidioso volteggiare delle mosche. Il mattino fu pesante, coperto da uno strato grigio e compatto di nuvolaglia che non si muoveva. Qualche ora prima di mezzogiorno sorsero subitanei soffi di vento che reclinarono biancheggianti i salici e nel cielo, sotto lo strato grigio di nubi, ne apparvero altre nere che si rotolavano come onde per larghe estensioni. I contadini erano ritornati sudati dai campi con le braccia pendenti, guardavano il cielo con la speranza che promettesse una buona pioggia e andarono in cucina a mangiare. Si erano udite le campane del villaggio suonare mezzogiorno, vicinissime come erano solite, quando minacciava il cattivo tempo e poco dopo schioccarono le prime gocce grossissime sulle foglie, sollevando la polvere del cortile. Le nere nubi, come se fossero fuse, con quelle grigie soprastanti, mutarono il loro colore in un tono verdastro, scuro, quasi giallo, e per un po' di tempo non si udì che sbattere la pioggia sulla terra, sulle tegole e sulla versura sovrabbondante. Poi un tuono e un fulmine nello stesso istante squarciarono il cielo e raddoppiò la pioggia per qualche istante, ma allo scoppiare da un altro fulmine fragoroso, come fosse crollata una montagna di ghiaccio, la pioggia cessò di colpo. Vi fu un attimo di tregua, un attimo caldo, umido, sufficiente per intendere l'odore della terra che si impregnava ad acqua, e subito dopo la grandine biancheggiò saltellante per terra, risuonando come stassi sulle tegole, tambureggiando le foglie, formando strati sull'erba e sul cortile. Tutti gli alberi, le viti, le piante dell'orto, le acacce della strada, si tenevano fermi, spauriti, oppressi dalla martellante caduta. I contadini avevano interrotto il mangiare e si erano radunati sotto il portico, con le spalle coperte dalle loro giacche d'inverno. Una donna si era messa a bruciare olivo su un mucchio di brace. Il fumo azzurrognolo veniva portato via a strappi. Il cielo annerito dava vigore ai lampi, che si succedevano continui tra il fuso brontolio dei tuoni e il trepestio della grandine dovunque. I contadini guardavano e non fiatavano, gli occhi dilatati inebetiti, stringendosi le braccia con le mani. Guardavano e sembrava non volessero credere. Le viti si scarnivano di foglie sotto i loro occhi. Lo strato bianco cresceva, passò una decina di minuti, e poi la pioggia prese a mischiarsi alla grandine e questa a scemare. Ancora qualche chicco rimbalzò fin sotto il portico, come una pallottola perduta, e poi non scese che la pioggia, fitta, una cascata di pioggia che travolse nel cortile la grandine, verso il displuvio, che colmò i fossi lungo la strada, che portò via galleggianti foglie, foglie innumerevoli. Santa Madonna, disse il capo di casa, quella che è venuta è bastata a distruggere tutte le nostre speranze. Il cielo rispose con lampi e tuoni, il cupo giallore si fece interrotto, il vento turbinò nell'aria fatta gelida, gli alberi si agitarono come in un estro liberarsi dalla terra e partire verso il cielo. Rallentò la violenza della pioggia, non venne che a intermittenza fino a cessare del tutto, e non si udì che lo scorrere dell'acqua, il gorgogliare delle grondaie, il gocciolare degli alberi disfatti. Si dischiuse il cielo tra i tuoni lontani, riapparve il sole, e dalla parte opposta si dipinse l'arcobaleno sullo sfondo grigio delle nubi. I bambini lo ammirarono con gioia, ma gli uomini rimanevano abbattuti e tristi. I bambini scapparono per primi all'aperto a raccogliere i chicchi della grandine trattenuti dall'erba, subito sgridati dalle donne, mentre gli uomini si misero ad occhieggiare dall'altra parte dell'orizzonte per assicurarsi che proprio tutta l'ira del cielo era finita. Più tardi, quando fu possibile uscire a camminare verso i campi, subito si intese un odore di foglie cadute, come per un prematuro autunno. I contadini, prima ancora di vedere realmente i danni causati, ripetevano sommessi, siamo rovinati, e veramente la campagna aveva un aspetto lugubre, quasi di cadavere. Il verde, prima traboccante, non esisteva più. Il grano turco abbattuto, stracciato nelle sue larghe foglie, i campi di foraggio calpestati come da una torma di cavalli, le pesche rose e mordicchiate, l'uva scoppiata nei suoi grani e foglie e piante per terra mischiate al fango. Un'angoscia prendeva e rendeva come perdute le braccia. Nel cielo era ritornato il sereno e il sole aveva ripreso a scottare ed era come una derisione nella sciagura. I contadini dalle case vicine erano venuti anche loro a vedere, quasi per confrontare i danni e per consolarsi nel vedere che i vicini non erano stati colpiti di meno. I loro volti erano esterrefatti sotto i larghi cappelli di paglia e ripetevano pur essi, siamo rovinati. Dopo aver guardato i campi, i contadini ritornarono a casa. La giornata estiva non finiva ancora. Stavano indecisi se buttarsi a dormire o riprendere a sperare ancora. Quando il più giovane degli uomini disse, diamo intanto il verde rame alle viti per salvare quello che rimane, e si mise di scatto al lavoro. Un altro prese silenziosamente la falce e si mise ad affilarla. Che fai? Gli chiese suo padre. Vado a tagliare il fieno, è meglio, già domani si seccherebbe tutto. E tutti gli altri presero le loro falci. E mentre falciavano secchi come adirati, il capo di casa disse, domani ripasseremo tutto il grano turco per rialzare le piante abbattute. E passò una quarantina di giorni, e venne caldo il sole pur declinando verso l'autunno. Il grano turco rialzato prolungò il suo gambo ed emise altre foglie. Le pannocchie si fecero turgide, le viti cancellarono le loro foglie stracciate, e i grani sani parvero occupare il posto dei guasti. Le morsicature delle pesche si restrinsero, pur non sanandosi. Gli alberi ebbero sicuramente altre foglie, e i campi di foraggio ritornarono a colmeggiare. Ad aver visto la campagna subito dopo la grandinata, non si sarebbe pensato che complessivamente potesse risanarsi a questo modo. Ed era perché si dimenticava che Dio è sempre un galantuomo. Che cos'è questo testo che hai letto? Questo è un racconto di uno scrittore italiano che si chiama Giovanni Comisso. Scrittorone, nato nel Veneto nel 1895, è stato uno degli scrittori più importanti d'Italia. Adesso ultimamente magari non è lo scrittore italiano più letto al momento, però i casi editrici stanno anche ristampando il suo lavoro per riportarlo alla sua gloria di un tempo, forse. Questo racconto, che si chiama La Grandine, l'ho trovato in questi due foglietti, in un librone, in una cantina. Praticamente a questo libro manca la copertina, ma il vecchio proprietario scrisse con un pennino, un chiostro blu, racconti del bello scrivere. Non so se questo titolo è il vero titolo del libro, che semplicemente mancando la copertina il vecchio proprietario l'ha riscritto sulla prima pagina, o se è un titolo inventato da lui. Però ci è piaciuto e lo teniamo come nome per questa nuova rubrica, che andrà avanti. Questo libro appunto è una raccolta di racconti di scrittori italiani e stranieri di vario genere, però non so in che anno è stato stampato. So soltanto successivo all'anno 1938, che quella è la data più vecchia riportata all'interno del volume. Se qualcuno di voi sa da quale libro di commisso è tratto questo racconto La Grandine, può scrivere nei commenti e darci delle informazioni, perché io stesso vorrei trovare quel libro, quella raccolta di racconti, per rileggerlo nel contesto del vero libro. E a te cos'è che piace di questo giovane commisso? A me sembra veramente uno scrittorone, ha uno stile molto semplice, ma ha un tono preciso, uno stile riconoscibile, questo che mi interessa negli scrittori. Poi mi interessa in questo caso qui anche la tematica, poiché usa, della grandine come pretesto di parlare della natura, delle singole piante del cielo e di come effettivamente la grandine incide sull'orto e quindi inevitabilmente sulla vita dei contadini. Poi mi piace anche per esempio che all'inizio è tutto paesaggio e poi alla fine ci sono i dialoghi. Se vogliamo un decentramento dei dialoghi solo alla fine. Solo alla fine gli uomini diventano personaggi e acquistano dei micro caratteri. Commisso era un uomo solo o aveva qualche amico? È un uomo che non si è mai sposato, non ha avuto figli e ha avuto degli amici che poi erano prevalentemente uomini, quelli di cui si sa, di cui riportato si era, aveva degli amici, aveva... beh per esempio un suo amico che si chiama Arturo Martini, era un pittore scultore. Quando Commisso pubblica il primo libro di poesie ha 21 anni, siamo nel 1916 ed è un libro che si chiama soltanto Poesie. La copertina gliel'ha fatta questo suo amico artista Arturo Martini. Quando esce appunto nel 1916 questo primo libro di poesie, la famiglia di Commisso, cioè i suoi genitori, che erano di questo ambiente diciamo abbastanza alto locato con dei parenti avvocati e parenti anche nell'ambiente militare, quando hanno appunto visto che è uscito il libro di poesie di loro figlio, hanno fatto ritirare le coppie perché secondo loro era disdicevole pubblicare un libro di poesie, cioè era una cosa non seria. Nel 1916 in quell'ambiente lì, borghese ma ignorante, scrivere un libro voleva dire essere un matto praticamente, cioè una roba... Nel 1920 a 25 anni Commisso va a Roma e qui con altri scrittori, poeti, giovani, scalpitanti, spettinati, mettono insieme un gruppo che si è un movimento yoga, proprio come lo yoga, quello che si fa oggi. Movimento yoga che ha un manifesto curioso, nel senso loro si descrivono unione di spiriti tendenti alla perfezione e poi nel loro manifesto una frase dice amare i nostri vizi così come le nostre virtù, muoversi, vivere, distruggere, creare. Alla fine con queste frasi io mi dico come non amarli questi qua, no? Dopo dal diritto a questo gruppo lui poi comincia a fare del giornalismo, tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 fa due viaggi molto importanti, uno a Parigi facendo delle cronache della vita parigina per dei quotidiani, tra la fine degli anni 20 e inizio anni 30 un altro viaggio importante è quello che fa in Oriente, lì avrà una vera apertura mentale, apertura mentale, verso una cultura diversa, cultura appunto diversissima per lui che aveva visto appunto l'Italia contadina, l'Italia borghese, però Parigi sicuramente appunto vede dei stimoli diversi e nel 1932, quando ha 37 anni, pubblica appunto questo libro che si chiama Cina-Giappone, dove racconta la sua esperienza che ha fatto in Oriente. In Cina compra una giada, che ritornerà dopo in questo discorso qui. Comiscio è stato anche molto legato a un importante editore e anche scrittore italiano che si chiama Leo Longanesi, era nato in un paesino piccolissimo della campagna romagnola che si chiama Bagna Cavallo. Per una stranissima coincidenza, attualmente l'orto in Telechia risiede nella campagna di Bagna Cavallo, di questo piccolissimo paesino che ora conta 16.000 abitanti, ma probabilmente quando è nato Longanesi potevano essere 3.000 più o meno. Leo Longanesi era molto amico di Comiscio. Ad un certo punto un giovane scrittore ha chiesto a Comiscio di potergli fare da tramite per le edizioni eolonganesi. Questo scrittore era Giuseppe Berto, il romanzo in questione era Il cielo è rosso, che poi da lì a poco è stato anche tradotto in americano dallo stesso editore di Hemingway, sono stati i primi successi italiani del dopoguerra ad arrivare in America. Il suo altro amico, sempre giovane scrittore, Goffredo Parise, che in quel caso lì, Comiscio lo scopre quando Parise aveva già scritto un libro sicuramente se non che due, e quindi legge un suo romanzo e poi si conoscono, diventano amici. Nel 1957, quando Parise si sposa, in quell'occasione Comiscio gli regala quella giada che aveva preso nel suo viaggio in Cina, però l'aveva fatta incastonare di una cornicina ottenuta affondendo i suoi pennini da scrittura, che erano pennini d'oro. Qualcuno ha visto in questo simbolo come un'indicazione verso il giovane Parise appunto ad avvicinarsi alla cultura orientale, la stessa cultura appunto che aveva sconvolto Comiscio all'inizio degli anni 30. E poi il fatto che quella cornicina d'oro fosse fatta affondendo i suoi pennini da scrittura era proprio una sorta di passaggio di testimone, per lui molto importante perché non avendo avuto figli, non avendo una sua famiglia normale, usava questi giovani scrittori come modo, un pretesto per sperimentare probabilmente il suo senso di paternità, così. E voglio dire un'altra cosa? Un'altra cosina che mi piace è che Pasolini, recensendo il libro di Comiscio che si chiama I due compagni, che parla di due amici pittori, ispirati ai suoi due amici, Arturo Martini, pittore o scultore, e un altro suo amico pittore che si chiama Gino Rossi. Pasolini, parlando di questo libro in un articolo, ha definito Comiscio uno scrittore dallo stile di seta. E poi diceva scrive come uno che si è appena risvegliato da un sonno atavico, come uno che sta scoprendo la scrittura mentre la crea, cioè impara a scrivere mentre lo sta facendo. Mi piaceva questo senso di purezza che vedeva in Comiscio. E invece Goffredo Parise, quello del regalino della giada cinese, diceva di Comiscio, ha questa struttura del corpo non da scrittore ma da mediatore di sementi. E che ancora questa cosa lo collega al mondo contadino, ed è insomma una bella cosa. Ma oggi si trovano anche altri suoi libri? Cinque suoi libri sono molto facilmente reperibili online, tre perché sono stati ristampati negli ultimi anni dalla casa editrice La Nave di Teseo. E altri due sono altre edizioni. Questi libri sono Un gatto attraversa la strada, Gioventù che muore, Gente di mare, I due compagni, Satire italiane Cari super tranquilli, per oggi è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo momento e vi auguro una bella. Buonanotte, ciccetti! È un grande onore per me parlare di un grande scrittore italiano alla televisione, è così poco conosciuto degli italiani. Posso soltanto parlare di lui in termini molto personali, perché ero molto amico suo e non potrei parlare in termini culturali, letterari, critici. Il corpo di Giovanni Comissu, in buona salute, era quello di un contadino mediatore di sementi con nuca larga e tempi erasate, un animale lustro, caldo e potente, una verdura grassa, come i cavoli, le verze e l'insalata che sbocciano e fioriscono negli orti confinanti con le mura dei cimiteri, dove la terra è molto feconda per la vicinanza del concime umano. Ma aveva occhi con lampi di pazzia e astuzia fulminante, che gli permettevano di coordinare tutte le possibili e impossibili geometrie dei cinque sensi nell'attimo di capire i fenomeni viventi. Grazie